Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano In edicola e online lapadania.net Il nostro indirizzo è sempre quello, maggior tutela per i cittadini e soprattutto un marco di riconoscimento di qualità C'è da aggiungere e da sottolineare come in particolare il Veneto ma tutte le altre regioni del nord stanno andando anche verso un'etichettatura regionale per affrancare ancora di più il territorio alla produzione come sinonimo di qualità Si viene accusato di cercare di creare commissioni ad hoc probabilmente solo per studiare fenomeni particolari senza poi produrre nessun tipo di risultato apprezzabile Invece questa commissione che è mi pare voluta da tutto l'arco parlamentare qui rappresentato abbia potuto nella scorsa legislatura dare la dimostrazione di come una gestione seria di una commissione da parte di tutti i commissari del Presidente ricordo lo splendido lavoro dell'ex collega e amico Gianni Fava ha potuto dare dei risultati importantissimi lotta alla contraffazione e tutela del Made in Italy sono due proposte che oramai sono legge dello Stato proposte effettuate in commissione attività produttiva alla Camera che salvaguardiano le nostre produzioni Si tratta di dare una nuova spinta a questo tipo di lavoro per andare a toccare la tutela andare a guardare seriamente quella che è la tutela della Made in Italy alimentare perché mentre tutti ci dicono che l'industria pesante sta in qualche modo facendo dei passi indietro l'industria alimentare è l'unica cosa che in maniera rinnovabile all'interno di questo Paese può e deve essere difesa ed essere utilizzata come volano per una ripresa che noi tutti speriamo essere il più possibile vicina Il primo sì del Parlamento europeo sull'etichettatura obbligatoria dei prodotti e questo è un passo fondamentale io vorrei ricordare che riguarda anche quei prodotti che possono avere un effetto sulla salute come l'abbigliamento, molto spesso non ci si pensa ma i prodotti importati contengono delle sostanze nocive anche per la salute e creano una concorrenza sleale nei confronti di chi invece rimane nel territorio segue le nostre leggi, segue le nostre prescrizioni ed è costretto a produrre ad un costo leggermente più elevato questo è il primo passo e noi applaudiamo questo risultato siamo sempre stati a favore di queste battaglie e l'accogliamo anche come una vittoria della Lega e delle sue battaglie politiche in Europa Informati bene, scegli La Padania come tuo riferimento quotidiano in edicola e online la padania.net